Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando dell'emergenza migranti perché la situazione rimane piuttosto complicata a Lampedusa, sono infatti 921 i migranti presenti al momento nell'hotspot di Lampedusa. Ieri sera, nell'isola, sono state imbarcate 450 persone sul traghetto Novelli, noleggiato per fare da nave umanitaria, ma la struttura di prima accoglienza resta ancora sovraffollata rispetto alla capienza massima prevista, ovvero 350 posti. Ieri, nell'arco di tutta la giornata, si sono registrati 11 sbarchi con un totale di 332 persone arrivate a Lampedusa. Sull'ultimo barcone c'erano anche due donne incinte, una al secondo e l'altra al settimo mese di gravidanza. Per oggi la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, di altri 110 migranti. Dunque, nonostante i trasferimenti di ieri, circa 500 persone, 450 per l'esattezza, nonostante gli altri 110 migranti che in giornata verranno imbarcati e trasferiti a Porto Empedocle, resta comunque affollatissimo l'hotspot di Lampedusa, ovvero la struttura di prima accoglienza presente in Contrada Embriacola, che può ospitare 350 persone, al momento ce ne sono 920, resteranno in 800, senza però dimenticare che nella giornata di oggi, approfittando anche del fatto che le alte temperature e il mare in condizioni praticamente estive, possono verificarsi altri sbarchi. Monitoreremo ovviamente la situazione e vi daremo aggiornamenti nel corso della giornata. Ancora cronaca adesso con una notizia che arriva invece da Catania. Tre medici assolti e quattro condannati a sei mesi ciascuno per omicidio colposo con pena sospesa. E' la sentenza della terza sezione del Tribunale Penale Monocratico di Catania del processo a sette medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro per la morte di Valentina Milluzzo, la 32enne alla diciannovesima settimana di gravidanza, deceduta il 16 ottobre 2016, dopo aver perso, con altrettanti aborti, i due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita. Assolti con la formula perché il fatto non sussiste il primario Paolo Scollo, il medico del reparto Andrea Benedetto Di Stefano e l'anestesista Francesco Paolo Cavallaro. Condannati invece a sei mesi di reclusione ciascuno, i medici Silvana Campione, Giuseppe Maria Alberto Calvo, Alessandra Coffaro e Vincenzo Filippello, in servizio nel reparto e in sala parto, avvicendatisi nei turni di guardia tra il 15 e il 16 ottobre del 2016. Secondo l'accusa, in concorso e cooperazione tra loro, cagionavano con colpa il decesso della gestante. Ci spostiamo adesso virtualmente nel Nisseno, per la precisione a Niscemi, dove un quarantenne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato in quanto avrebbe causato l'incendio di quattro auto parcheggiate davanti alla stazione ferroviaria. Il servizio. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Gela, sezione GIP, nei confronti di un quarantenne niscimese al quale viene contestato di aver causato nella notte del 10 giugno scorso un incendio appiccando il fuoco ad un veicolo commerciale parcheggiato in attesa di riparazione nel piazzale della stazione di Niscemi. L'incendio si propagò rapidamente su altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze distruggendoli. A seguito dell'episodio sono state avviate serrate indagini di Polizia Giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e delegate al Commissariato di Pubblica Sicurezza. Le stesse espletate sia attraverso una minuziosa ricognizione e analisi di sistemi di videosorveglianza utili alla ricostruzione degli accadimenti sia attraverso altre attività di riscontro hanno restituito elementi univoci in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. E a proposito di piromani in azione torniamo a occuparci del dramma avvenuto ieri nel Catanese per la precisione a Lingua Glossa dove è precipitato un Canadair impegnato nello spegnimento di un vasto incendio. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che proseguono già da stamattina le ricerche dei due piloti che erano a bordo del Canadair precipitato, ricerche che erano state sospese ieri sera a causa chiaramente del buio. Alle ricerche che sono effettuate attualmente anche con l'utilizzo di droni alla luce della situazione, del posto, del luogo particolarmente impervio, alle ricerche dicevamo stanno partecipando i vigili del fuoco e personale del corpo forestale e della protezione civile regionale, mentre sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Randazzo coordinati dalla procura di Catania. Il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile Salvo Cocina sin dalla notizia dell'accaduto sta seguendo direttamente le operazioni di soccorso. Ma cosa è successo? Andiamo nel specifico di questo drammatico incidente di cui vi stiamo mostrando le immagini. Il mezzo aereo dei vigili del fuoco era decollato dall'aeroporto di La Mezzia Terme e aveva fatto poco prima rifornimento in mare nella zona davanti a Giarre per poi riprendere la consueta operazione di spegnimento di questo vasto incendio che si era sviluppato nelle zone di Monte Calcinera. Come detto, siamo nel territorio di lingua glossa, non abbiamo certezza, ma si tratta quasi certamente di un incendio di natura dolosa. Il velivolo però, per motivi che saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, potrebbe anche essersi trattato di un improvviso guasto tecnico, c'è anche questa opzione chiaramente al vaglio. Resta il fatto che il velivolo, subito dopo aver lanciato l'acqua sulle fiamme, ha urtato un costone ed è precipitato e poi si è schiantato al suolo prendendo anche fuoco. C'è stata una vera e propria esplosione. Alla tragedia ha assistito il personale della forestale regionale che era presente sul posto e che ha immediatamente dato l'allarme. Per i soccorritori però, come detto prima, a causa del luogo particolarmente impervio, l'intervento è stato molto difficile, lo è tuttora, sospese le ricerche per il buio, sono riprese, ma i due piloti non sono ancora stati ritrovati. Chiaramente seguiremo con attenzione questa vicenda, questa giornata, vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle edizioni di Spazio Notizia, qualora chiaramente ci saranno degli aggiornamenti e delle notizie ufficiali. Cambiamo ancora argomento, adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, continuiamo a parlare di cronaca, anzi in questo caso la notizia arriva proprio da Agrigento, dove un 32enne è stato vittima, così come tante altre persone purtroppo, di una truffa online. L'uomo, nel tentativo di risparmiare, aveva acquistato su internet una guarnizione che serviva per la sua auto al prezzo di circa 4 euro, però una volta effettuato il pagamento gli sono arrivati, pensate un po', degli addebiti sulla sua carta di credito per un complessivo di 1.500 euro. Dopo aver chiaramente scoperto la truffa, il 32enne si è presentato dalla polizia per formalizzare una denuncia, chiaramente a carico di ignoti con gli agenti, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori di questo reato online. Restiamo nell'Agrigentino, in questo caso la notizia arriva da Favara, si tratta di un'aggressione di una donna aggredita, una 52enne di Favara, che è stata picchiata davanti alla sua abitazione. La donna è poi finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni, i medici le hanno infatti diagnosticato dei traumi alla spalla e al torace. Le forze dell'ordine hanno acquisito il referto medico e hanno subito avviato le indagini per provare a risalire agli aggressori, per cercare ovviamente di far luce su questa vicenda. E pare, secondo le prime indiscrezioni, che la 52enne abbia riferito ai medici di conoscere le persone che l'hanno picchiata, così apparentemente senza un motivo, sotto la sua abitazione. Chiudiamo anche questa notizia, adesso parliamo di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino, quello diramato dal Ministero della Salute nella serata di ieri. 1.331 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 14.581 tamponi processati, per un tasso di positività del 9,1% che pone la Sicilia, in questo caso, al nono posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 19.980, i nuovi guariti invece 1.176. Si registrano purtroppo altre due vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 12.241. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono invece 312, due in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 18 persone, una in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, Palermo e Catania, si confermano le due province con il maggior numero di nuovi casi, rispettivamente 338 a Palermo e 257 a Catania. Poi le altre province con dati più bassi, ad esempio Siracusa con 171, ma anche Enna con 47 nuovi casi Covid, Enna che in questo caso è l'ultima provincia siciliana per numero di nuovi casi. Questi dunque i dati del bollettino di ieri, vedremo poi in serata quando usciranno i dati aggiornati, quali saranno i numeri che riguardano la Sicilia. Parliamo ancora di Covid con la regione siciliana che come di consueto ha diramato invece il bollettino settimanale, dunque che fa il punto sulla scorsa settimana. Il dato che emerge in Sicilia è ormai lo stesso da un paio di settimane, ovvero le ospedalizzazioni sono in leggero calo, ma purtroppo continuano ad aumentare i contagi. Allora facciamo il punto nel nostro servizio. Nella settimana dal 17 al 23 ottobre si registra in Sicilia un incremento delle nuove infezioni da Covid in linea con il territorio nazionale. I nuovi casi sono 9.690, pari a un'incidenza del 5,28%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e oltre il 50% dei pazienti ricoverati non risulta vaccinato. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 19 al 25 ottobre. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,33%. Hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 67.159 bambini, pari al 21,79% del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,82%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'89,48%. I vaccinati con terza dose sono 2.766.812, pari al 72,34% degli aventi diritto. Dal 13 luglio è stata autorizzata la quarta dose per gli over 60 e per gli over 12 con elevate fragilità. Il Ministero della Salute, dal 7 settembre, ha inoltre autorizzato la somministrazione della dose booster agli over 60 alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. In Sicilia, dal 1 marzo, sono state effettuate 148.690 somministrazioni di quarta dose, di cui 138.649 ad over 60. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. A più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia.